Ciao ragazze, allora è praticamente la seconda volta che provo a registrare questo video e niente, riproviamo. Mi chiamo Marika, ho 18 anni e sono siciliana. Sono fidanzata da ben 6 anni e quando ho scoperto di essere incinta avevo 17 anni, adesso ne ho 18. Sono la ventunesima settimana e volevo condividere con voi la mia gioia di diventare mamma. Ovviamente avevo caricato altri video in passato, ma erano, cioè sono, non erano, sono poco seguiti e niente, non me ne faccio meraviglia, non erano dei video di chissà quale qualità e comunque voglio solo condividere con voi le mie passioni e le mie gioie, non voglio migliaia di iscritti, cioè perché comunque, non lo so, va bene così, mi basta. E niente, praticamente appunto sono in gravidanza, sono di 21 settimane ed è una femminuzza. Si chiamerà Chloe e nascerà a novembre. Niente, io e il suo papà l'aspettiamo con ansia e per noi è una gioia immensa e veramente volevo condividere appunto questa gioia e farvi partecipe delle mie sensazioni, di quello che penso insomma di questa gravidanza e niente, da oggi inizierò a caricare appunto questi video. Se vi piaccio e non vi annoio, mi seguite, se no va bene lo stesso. E niente, io penso che adesso andrà a caricare questo video, non sono molto brava a montare, infatti se avete qualche programma per montarlo e volete consigliarmelo, scrivetelo sotto. E che dirvi? Ovviamente non metterò solamente video sulla gravidanza, ci saranno video tutorial, vlog, gli acquisti che faccio per la piccolina e niente, vi farò un po' partecipi di qui, della mia vita. Vi mando un grande passo e alla prossima. Ciao!